Le attività poste in essere nell'ambito del programma Sofu proseguono in maniera incessante con un grande apprezzamento da parte degli utenti che si sentono coinvolti nelle iniziative volte al reinserimento dei detenuti ospiti della Casa Circondariale Antonio Caputo di Salerno. Un progetto che vuol rilanciare all'interno della società utenze speciali cercando di individuare le loro passioni e valorizzarle, valorendo un nuovo approccio alle realtà sociali ed economiche dei contesti in cui vivono. Dopo aver dato un'identità allo sportello di orientamento e formazione per utenze speciali a punto Sofu, creando il brand identificativo, i detenuti hanno definito i 13 business ideas che saranno raccolte in un book per la loro presentazione a istituzioni e imprese che a vario titolo possono impegnarsi per la loro concretizzazione. Un fermento creativo e motivazionale all'interno del carcere, spiegano gli ideatori del progetto che ha creato negli ospiti una nuova visione di futuro, alimentata con la formazione e l'affiancamento per la verifica di fattibilità tecnica, economica, logistica e di mercato delle attività concepite dai detenuti e ricadenti nei più svariati settori come ad esempio raccolta e lavorazione dei metalli, noleggio auto, movimentazione terra, valorizzazione dei prodotti certificati, lavorazioni meccaniche artigianali, servizi di attività edil, tatuaggi, design, moda, degustazione e tanto altro. L'iniziativa finanziata dalla Regione Campania vede insieme una rete di partner quali ETS Socrates di Sala Consilina come ente capofila, cooperativa sociale Fili d'Erba e associazione quartieri Ogliara che hanno aiutato i detenuti a predisporre ed aggiornare i loro curriculum vite in vista degli incontri con imprese profit e no profit pubbliche e private finalizzate alla creazione di partenariati all'inclusione sociale. Presso la Casa Circondariale di Salerno sono inoltre stati allestiti laboratori di coprogettazione da dove è partito il progetto di Adolescenze Sbarre che ha visto il coinvolgimento anche dell'ICAT di Eboli, dell'ETS Avalon, dell'assessorato alle politiche sociali del Comune di Salerno e della Casa Circondariale Antonio Caputo di Salerno. Sono inoltre previste attività di prison art per rendere più accoglienti gli ambienti dell'Istituto Penitenziario oltre a diverse attività come la scuola di fumetto e di musica rap, percorsi di genitorialità e assistenza domiciliare socioassistenziale, laboratorio di orientamento al lavoro e all'imprenditorialità. Le imprese e le istituzioni interessate ad offrire un'opportunità di lavoro agli utenti del progetto potranno presentare la loro manifestazione di interessi ai referenti del progetto, ossia Vincenzo Quagliano e Caterina Di Bisceglia e di ETS Socrates di Sala Consilina.